L'emendamento voleva dare uguali diritti ai bambini che i tribunali danno in affido ad una famiglia regolarmente sposata e a quelli che i tribunali danno in affido ad una persona singola, potendo permettere ad entrambi di accedere all'istituto dell'adozione in caso di prolungato periodo di affidamento senza dover ricorrere all'articolo 44, lettera D, ossia all'adozione in casi particolari.